Ciao amici benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di streaming legale e di streaming illegale e partiamo subito da un presupposto. Nello streaming non c'è nulla di illegale. Ciò che è illegale è fruire di contenuti protetti da diritto d'autore in maniera abusiva. In questo video vedremo che cosa è legale, che cosa non lo è e alla fine troverai anche dei consigli per guardare gratuitamente film o serie tv senza violare la legge. Prima di andare avanti però siccome questo è un contenuto completamente gratuito in cambio ti chiedo di lasciarmi soltanto un like ed iscriverti al canale attivando campanella e notifica sia per supportare il mio lavoro ed il mio canale sia per rimanere aggiornato tutte le volte che pubblico nuovo contenuto. Non sempre vedere un film in streaming è reato o un illecito. Ci sono tantissimi siti che permettono la visione di contenuti o film online, il cosiddetto streaming autorizzato. Cioè se è colui che ha il diritto d'autore a diffondere il video o se per la visione di questo video c'è da pagare un prezzo e tu lo paghi allora non c'è assolutamente nulla di male nel farlo. Un altro modo legale per guardare contenuti online protetti da diritto d'autore è quello di sfruttare il cosiddetto periodo di prova. Ci sono applicazioni o siti detentori di diritti d'autore di film o serie tv che consentono di usufruire di un periodo di prova passato il quale per poter continuare ad utilizzare quel servizio dovrai pagare. Quindi in quali casi si può e in quali casi non si può guardare online un film una partita o altro. Voglio rispondere a tutte le tue domande e naturalmente essere quanto più preciso possibile. Vediamo subito quando ti ritrovi a commettere un illecito. Questo accade se il film o il contenuto che vuoi vedere caricato magari su un sito pirata si trova ad essere coperto dal copyright. Il copyright che può essere tradotto con il diritto di copia è in realtà da noi identificato come diritto d'autore. Col copyright quindi una determinata persona ha il diritto esclusivo di utilizzazione di un'opera o di più opere. Chi crea l'opera ha tutti i diritti sulla stessa quindi sarà questa persona a decidere se o quando dare l'autorizzazione per la sua fruizione. Per esempio questo video proprio il video che stai guardando è una mia proprietà. Sono io a decidere che tu puoi liberamente guardarlo senza pagare alcun prezzo. Altri potrebbero fare scelte differenti o decidere di apporre un prezzo simbolico per la fruizione di un contenuto. E se tu violi il copyright il diritto di autore rischi una sanzione amministrativa di 154 euro. E con l'avvento di internet e il suo utilizzo sempre più diffuso c'è stata l'estensione del diritto d'autore anche al web quindi ad internet. Immaginate che c'è stato un reale aumento di streaming illegale durante la prima ondata di covid-19. Ricorderete sicuramente il primo lockdown che c'è stato da marzo a maggio 2020 quando non potevamo uscire di casa se non per esigenze reali. E in quel periodo c'è stato un incremento notevole di questo fenomeno. Poi dopo i numeri sono diminuiti ma comunque ad oggi ci sono tante persone che guardano film in streaming e non sempre sono autorizzati. Pagare Netflix o altre piattaforme che consentono di vedere contenuti online non ci espone ovviamente ad alcun tipo di rischio. Quello è il cosiddetto streaming legale. Queste piattaforme come Netflix, Amazon, Dazon eccetera vengono definite piattaforme legali riconosciute. Tu per accedere paghi un abbonamento quindi puoi vedere tutti i contenuti che sono all'interno di questa piattaforma. Tra il 2007 ed il 2009 si sentiva spessissimo di film scaricati con Emule o con eTorrent e altri programmi simili. Questa sebbene non fosse una condotta che integra un reato perché definita come un download per uso personale è comunque una condotta sanzionabile con una multa anche se è più corretto dire con una sanzione amministrativa. Al di fuori di questi casi cioè quando una persona scarica materialmente un contenuto e lo diffonde, lo divulga per consentire anche ad altre persone di usufruire di quel prodotto commette invece un reato. Nel caso di diffusione illegale da parte di una persona di opere coperte da diritto d'autore la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni ed una sanzione pecuniaria che va da 2.500 circa a 15.500 euro. Invece nel caso di assenza di un comportamento legato allo scopo di lucro non è prevista la reclusione e c'è solo la sanzione pecuniaria che diminuisce e può arrivare fino ad un massimo di 2.065 euro. Fino a questo momento io ti ho parlato di film, di musica che puoi scaricare, che può essere scaricata per essere poi successivamente diffusa. Non pensare che però abbia dimenticato di parlare di partite di calcio. Io vengo da una famiglia di tifosissimi che quando possono vanno anche allo Stato per vedere la loro squadra del cuore. C'è però chi queste partite le guarda a casa con lo streaming e ovviamente anche in questo caso nessun problema se lo fai attraverso piattaforme che sono autorizzate come Dazon o altre piattaforme che consentono la visione di partite. Lo stesso Amazon qualche volta mi pare che abbia i diritti Champions, non mi vorrei sbagliare, però insomma anche Amazon consente la visione di partite di calcio o altri sport. Ma ci sono anche degli altri metodi meno legali. Se vai su uno dei più conosciuti motori di ricerca sicuramente ti ritroverai a vedere siti su siti per riuscire a collegarti e vedere la partita della tua squadra ma anche di altre squadre. Come ti dicevo prima anche in questo caso ci sono streaming legali e streaming illegali. Dazon è una delle più note piattaforme ultimamente che sicuramente avrai sentito già nominare. È una piattaforma di streaming web totalmente legale. Tu paghi un abbonamento e puoi vedere gli eventi sportivi che attraverso questo abbonamento ti è consentito vedere. In quel caso stai tranquillo sulla tua coltrona goditi l'evento sportivo nonostante i disservizi che qualche volta Dazon ha avuto modo di riscontrare e che sono stati riscontrati dai suoi utenti. Però ti sarà anche capitato altre volte di sentire qualcuno. Sì l'ho vista la partita in streaming ma il cronista parlava in spagnolo, in tedesco, in giapponese oppure sì l'ho vista la partita aveva qualche difetto tecnico. Questo succede perché quella fruizione è avvenuta attraverso dei sistemi che non sono legali. Devo precisare ma probabilmente chi si intende di calcio e non solo sa già che le partite sono coperte dai diritti televisivi. Naturalmente per ogni campionato il diritto si lega a qualcuno in particolare ad esempio nel caso degli europei e delle nazionali il diritto spetta alla UEFA, nel caso del campionato nazionale il diritto spetta alla lega calcio e così via. Quindi sarà una piattaforma di streaming web o un canale televisivo che viene autorizzato a trasmettere quella partita e la vedrà solo chi ha pagato per quel determinato diritto televisivo. Gli altri modi per vedere le partite come ha già sentito prima non sono legali perché ledono il diritto televisivo del quale ti ho appena parlato. I soggetti anche in questo caso sono due chi vede la partita in streaming illegale e chi trasmette illegalmente questa partita. E come nel caso di diffusione illegale di un film anche nel caso delle partite il soggetto che divulga illegalmente e a scopo di lucro una partita è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni a una sanzione pecuniaria da 2.500 a 15.500 euro. Se invece non c'è uno scopo di lucro non c'è reclusione e la sanzione andrà dai 51 euro a 2.065 euro. L'esempio più plateale è Roia Diretta che viene addirittura definito come il più famoso sito pirata di calcio che però è stato multato per oltre 500.000 euro ed è stato anche condannato per chi ha leso i diritti audiovisivi provocando così dei danni a Mediaset. Inutile nascondere da parte di alcune persone l'utilizzo del cosiddetto pezzotto tv cioè fondamentalmente di un decoder un decoder molto spesso utilizzato illegalmente che dà la possibilità di vedere i contenuti che nella normalità dei casi riesce a vedere soltanto con Dazon, Mediaset Premium e anche Sky e anche col pezzotto paghi un abbonamento che in termini economici è sicuramente più vantaggioso del pagamento di tutte queste piattaforme ma resta comunque il pezzotto un dispositivo illegale che viene collegato alla tua televisione per permetterti la visione di questi eventi sportivi e non. E questo fenomeno, il fenomeno del pezzotto è in costante aumento vedendo un numero quasi impressionante di persone che fanno utilizzo di questo abbonamento illegale. Anche nel caso del pezzotto si viola il diritto di autore e si rischia una denuncia penale in relazione alla quale è prevista la reclusione. Naturalmente sia la polizia postale che la guardia di finanza ma lo stesso legislatore stanno lavorando per cercare di evitare che questo fenomeno si propaghi sempre di più. A margine di tutto quello che abbiamo detto finora devo comunque dire che esistono tantissime piattaforme che consentono di guardare contenuti protetti da diritto d'autore in maniera gratuita e totalmente legale. Se pensi ad applicazioni come RaiPlay, scaricabili su ogni dispositivo, ma anche Prime Video che è un servizio che se vogliamo è gratuito, è un servizio gratuito che Amazon mette a disposizione di chi si abbona al suo servizio Prime per gli acquisti online. Sicuramente ce ne sono tantissimi altri che mettono a disposizione contenuti non protetti da diritto d'autore e quindi fruibili gratuitamente. Magari tra queste trovi qualche magnifica perla che mai ti saresti aspettato di trovare. Quindi al di là del se un certo atteggiamento integri o meno un reato, integri o meno un altro tipo di illecito, il mio consiglio è sempre quello di guardare contenuti in maniera lecita ed evitando problemi. E se il video ti è piaciuto siccome è gratis, in cambio ti chiedo solo di lasciarmi un like, di iscriverti al canale attivando campanella e notifiche così da essere sempre aggiornato quando pubblicherò altri contenuti dello stesso tipo. È il diritto penale. Che stè?